La violenza non è fatta solo di schiaffi. A volte può assumere forme molto più difficili da individuare ma ugualmente pericolose. Rispondi a queste semplici domande. L'uomo che dice di amarti, ti offende e ti umilia verbalmente convincendoti che non vali nulla, ti accusa di essere una cattiva madre, ti impedisce di lavorare, pretende da te rapporti sessuali? Beh, se hai risposto di sì anche solo da alcune di queste domande, il tuo può essere un rapporto potenzialmente pericoloso ma sappi che non sei da sola.